e bello a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi giocheremo a pizza un gioco di pizza che è molto bello secondo me io ci ho già giocato e ho capito come si va ed è molto fa cioè ci sono pure i clienti che ti chiedono se volete scaricarlo si chiama buona pizza grande pizza andiamo qua c'è il telegiornale ma adesso non ci interessa di fatto un sacco di cose grafico volevo solo controllare una pizzeria patto nero per ferita ah con la sesso vado il sud e tutto questo tempo senza peperoni ti dico una cosa appena una foto del tuo piazzaiolo preferito alla finestra e ti darò i condimenti che ti servono perfetto questa bella faccia deve essere mostrata ti spedio i condimenti stasera ok cipolle e salame e piccante vanno insieme vero ok quindi possiamo fare questo e questo vabbè comunque cipolle e salame e piccante vanno insieme ok quindi devo mettere la pizza mozzarella e cipolle ok così perfetto adesso lo mettiamo a cuocere bene vediamo cosa c'è qua aspetta non ci interessa ok vai mettiamo un po' di veloce se volete un altro video di questo gioco lasciate almeno 3 like se è un artista no un architetto no un pittore no un architetto è basforo ok oh abbiamo preso del dolore salve ne vorrei una salame piccante ma se anche la salciccia sarebbe meglio ok quindi una salciccia ok così mi raccomando iscrivetevi al canale che è una cosa importantissima per me ok salciccia se volete che vuoi che io faccia una live lasciate almeno 50 live 50 like scusate se volete che la faccia se no non la farò mai se arriverò a 2000 anche comunque ok cotiti bene ok stai cercando di spagnare sulla mia pizza questa non è una cosa nessun salame si ma tu mi hai detto che era meglio era meglio salciccia ok vai basta che vengi salame e salciccia due pizze olive salame piccante senza mozzarella tagliarle tutte a metà ok oliva salame ok così così senza mozzarella questo così 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 ok perfetto ok ok e oliva ok stai spendendo un sacco di soldi ok mettiamo il forno ok ok sì così così ok ciao odio la pizza ma che cosa vabbè qual è il cibo migliore da mangiare mentre si guarda una partita patatina e salsa oppure formaggio su una focaccia anche se adesso mi piace mangiare il formaggio filante con la focaccia mentre guarda una partita ben cotta non dici ma sarebbe ben cotta non tanto oh dimmi la prima ben cotta ok mi hai fatto sbagliare dell'impasto ma fa lo stesso tiè grande 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 ok voglio una pizza con tutte le verdure ok quindi sei vegetariano ma non so se metterli vabbè li ho metto le verdure vai niam ok sto spammando un sacco uffa dai ok un po' un disegnato ma fa lo stesso così ti fa bene ben fatto ultima ma la pizza di qualcun'altro non voglio funghi ma scusa allora oh dieci soldi bene no non ho poteri vegani posso avere solo una pizza vegana ok ma di nuovo non so perché mi è partita la pizza vai di nuovo senza funghi ok 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 vai non abbastanza funghi sì ma sì però e dai ma l'affitto rimborsi no vabbè per oggi abbiamo finito oh abbiamo sblocato anche una meglio sapersi comunque io vi lascio al prossimo video ciao ciao ciao